il formaggio 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 è già pronto vuol dire no poi c'è il formaggio prima di fare si siamo accortati mi sa che ci si allora una si è ghiacciato si è ghiacciato si è ghiacciato si è ghiacciato molto si è ghiacciato ma non lasciatele affreddare cazzo un bicchiere di vino un bicchiere di vino un bicchiere di vino un bicchiere di vino no così è assurdo inquadrino lui non c'è inquadrato no lui no lui che cazzo sta a mangiare che viene sta mangiando qua ah queste sono le siate sono le siate sono lantas sono lantas sono lantas questo sono lantas sono lantas no ci sono lantas m non c'è chi vuole fare il 15 Sì, questo è un po' a 30 minuti. Silvio, da uno a dieci. No, no, da chioma. A chioma fluente. Sennò Daniela mi rompa le ore. Ah, beh, ci puoi coltare. Giù. Antonello, da uno a dieci. Quanto andranno a pescare stasera? Ma non può fare. Eccolo. Oh, ho. Eccolo. 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 Mille euro. Mille, duemila. No, mille. Questo telefono appena di mille euro. Dai Enrico. Dimmi. Avvocato. Scatto? No, è scatto. Tanto se non scatto, se non scatti, scatti lo stesso. HD addirittura. Minchia. Stanno cercando le foto del mare, non c'è questi ragazzi. Vuoi dire qualcosa a quelli di SCD? Ma stai facendo un film o che cosa stai facendo? Ti sei svegliato qui. Ma perché fai in film, signora? C'è la faccia da... Tutte queste cose che c'erano nelle spiagge. Queste sono le cose. E' vela. E' velelle. E' pieno, tutto blu. Sono tasare tu questa. Ah si. Infatti non ho preso un cazzo perchè mangiato la posta. E' perchè sono blu? Io ho visse bianchi. Trasparenti. E' blu. Ed è blu anche la strama che riesce anche nell'aura. Questo periodo. No, no. Guarda più bella tra una settimana, una settimana, dieci giorni dopo che puzza. E' un cazzo. Ah io ho vinto sempre quando sono lisse. Io mamma minchia, vado subito. Il caffè c'è? C'è un odore. C'è un caffè? Tipico sardo. Il tiramessino. Chi è che ha messo quella lì a... A Medusa Portoghese quella vele roma? La caramella. La caramella? Chi è che l'ha messo quella lì a... La caramella? Chi è che l'ha messa lì a caramella portoghese? C'è? Zaccotto. No, la messa la... Cifra. Cifra. Poi l'avanzo l'Antonello. Si chiama Marco. Lui è il bruto. la piscale spisaria, non me lo mai chiede no io ce l'ho visto qua stanno toccando io la più brutta, la Sicilia chiamavo Marzamemi una di quelle piccolette così a tubo che c'ha il ciocchetto davanti gli passavi da qui a lì pensate che ci avevi tentato in lì cazzo gli lasciava proprio delle strisciate che ti metteva Paoli proprio dentro la scossa elettrica ma erano, gli chiamavano Marzamemi piccoli così, tutto il vetto che stronza, piccoli se vogliono passare lì ma pure lontano sono minuschi ma se ne mangi il destino è davvero una piattaforma la perpa di mare giusto? no la perpa di mare è quella la perpa di mare è quella c'è un montale mi muovo mi muovo non si ginefiscia da lì non si vede il palazzo da lì non è il palazzo ma noi ce l'abbiamo un pallone ma noi ce l'abbiamo un pallone oh si sta bene ha fatto un palliacente mi dà si ha preso un palliacente gli altri? due cinque euro no bellissimo non sei se l'abbiamo che è una cosa che è uno non è un palliacino che è uno che è un palliacino mi è un palliacino mi è un palliacino no mi è un palliacino non c'è uno non faceva un palliacino mi sono autofotografato ma non lo so se vi guardo salute grazie grazie